Buon Dì, non crescerà Napoli, non crescerà la campagna se non si investerà, se non aiutiamo le città della fascia costiera a sud di Napoli. Le città di Portici, San Giorgio, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare sono una vera risorsa. Mettere lì le zone di economia speciale, quelle zone franche dove gli imprenditori potranno lavorare in esenzione doganale e senza pagare le tasse. Investire nei porti, in quei porti che si devono collegare direttamente con il porto di Napoli e il porto di Salerno, eliminare la disoccupazione giovanile, tenere qui i nostri giovani che non devono scappare ed andare in un altro paese, in un'altra nazione, impoverendo quelle città è la sfida, la sfida che la nuova giunta regionale, la giunta regionale di centro-destra che sostituirà questi incapaci di centro-sinistra dovrà affrontare e risolvere. Grazie a tutti!